Buongiorno a tutti ragazzi, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti. Non ci sono delle belle notizie, anzi dobbiamo un attimino fare una sorta di bollettino di guerra perché ci sono degli altri infortunati, ma soprattutto vorrei toccare anche un attimo l'argomento relativo ad Antonio Conte. Dato che è stato un nome che è circolato nelle ultime ore in tanti, mi avete chiesto un attimino di fare un punto alla situazione, di avere una mia opinione, anche se io ho già espresso la mia opinione in passato, beh, è giusto fare un passettino indietro e dato che oggi siamo in antivigilia di una Champions in cui siamo già stati eliminati, possiamo banalmente far volare un po' la fantasia. Però vi dico anche che in parallelo a questo video ne ho fatto uscire un altro su Numero Diez e quindi vi invito a scaricare l'applicazione perché parleremo proprio di questa cosa su Numero Diez. Ho fatto un video che parla di Antonio Conte, trovate il link per scaricare gratuitamente l'applicazione qui sotto in descrizione e vi porto quella che potrebbe essere la formazione della Juventus titolare con Antonio Conte in panchina con la rosa attuale della Juventus. Quindi se siete interessati anche a questo contenuto lo trovate gratuitamente su Numero Diez nella sezione Influencer, non nel senso che abbiamo un raffreddore dato che siamo in tema. E il tema è Halloween più che altro ed è una cosa che fa paura, fa veramente tanta paura ragazzi perché... Leggo Romeo Agresti, altro giro, altro infortunio per la Juventus, problema retto femorale per McKennie almeno 15 giorni di stop. Ci sta perché eravamo in una situazione in cui potevamo permettercelo, no? Disponibili per la partita con il PSG bene o male facendo i conti e tolto anche Ealing Junior che ne andrà per altri 20 giorni per via di quel problema alla caviglia causato dall'entrata folle, folle di Di Francesco. Scesni per Impi in soglio, beh a livello di portieri siamo perfetti, ci siamo tutti. Bonucci, Gatti, Rugani e Alessandro. Ricordiamolo, Rugani ha avuto qualche problemino e non era al 100%, quindi non è partito a titolare nell'ultima collecce. Alessandro aveva un problemino all'anca, quindi anche lui proprio non sta divinamente. A centrocampo, Rabiot, Fagioli e Miretti. Ed eventualmente Locatelli che dovrebbe rientrare per via di qualche problema personale. Mi auguro che sia andato tutto bene perché ho una brutta sensazione a riguardo. Esterni, Quadrado, Kostic, Sule e Compagnon aggregato dall'Under. Ok? E in attacco Milik e Ken. Stop! Questi sono meno male i giocatori che abbiamo a disposizione perché gli altri sono tutti infortunati. Poi magari si aggregherà qualcun altro dalla primavera dall'Under 23, non ho idea, ma questi sono. E attenzione perché, a quanto pare, come riporta Giovanni Albanese, nuovi problemi per Pogba, per un risentimento muscolare alla coscia, causato probabilmente da un sovraccarico dovuto al lungo periodo di stop, dovrà fermarsi per una decina di giorni. La convocazione al Mondiale è sempre più a rischio. Ora, ditemi voi come faccio in una situazione del genere, terrificante, tremenda, vergognosa a livello di infortuni, a sperare di riavere Federico Chiesa. Io a questo punto mi auguro che fino a gennaio non si riveda Federico Chiesa, mi auguro di non vederlo in campo, perché è un attimo che sta andando male, andrà ancora più storta la situazione, ancora più storta, perché non è francamente possibile, arrivati a questo punto della stagione, avere avuto tutti questi infortuni muscolari, perché quelli traumatici come quello di Healing non ci puoi fare niente, come quello di Pogba. proprio la ricaduta di Pogba a livello muscolare, mentre recupera dall'infortunio è fuori ancora, e McKennie è fuori ancora, e questo è fuori ancora, e Vlaovic ha la pubalgia. Ragazzi, dai, francamente, come possiamo cercare di affrontare una stagione con questi presupposti? Se pensiamo che possa essere soltanto sfortuna, probabilmente facciamo un errore, un grosso errore, perché significa che in questo momento la Juventus non è gestita nel migliore dei modi a livello di preparazione atletica, e il fatto che si vada anche meno degli altri in campo a livello di velocità complessiva sarà dato anche da questo. Secondo me è un insieme proprio di cose, non c'è una causa scatenante, sicuramente è stato sbagliato qualcosa a livello di preparazione fisica, questo penso che ormai sia fuori discussione. Poi anche il modo in cui viene probabilmente utilizzato il calciatore in questione, non dico un calciatore singolo, ma i calciatori della Juventus, probabilmente ad oggi non fa sì che il corpo, il fisico, possa recuperare o adeguarsi a quelli che sono gli standard qualitativi di Serie A o della Champions League. La Juventus oggi ha tanti problemi, numerosi. Vorrei che non venissero nascosti dietro al ehi, siamo la miglior difesa del campionato, perché non ce ne facciamo assolutamente niente di questo dato che è iniziato a circolare ieri sera, è incredibile da leggere, ma non ce ne facciamo niente, perché i problemi della Juve rimangono come ehi, con quei due punti in più della Salernitana, lo sappiamo che è stato uno scandalo, lo sappiamo tutti, l'abbiamo già detto, meritavamo quei due punti in più, ma non è che quei due punti in più in classifica ti avrebbero messo nella condizione di dire abbia risolto tutti i problemi. Cioè questi sono errori che non vanno fatti. La stagione della Juventus rimane terrificante fino a questo punto, sotto ogni punto di vista. Non possiamo assolutamente essere sollevati per via di un dato statistico come quello della miglior difesa al 31 di ottobre, che non vuol dire assolutamente niente. E non me ne faccio niente dalla miglior difesa se poi non arrivo a raggiungere determinati livelli o risultati, come può essere una qualificazione di Champions, o come può essere un campionato vinto, o come può essere un girono di Champions superato. Non me ne faccio niente. Non serve a niente. E dato che parlavamo di Antonio Conte, vorrei cercare di fare un passo oltre, perché io lo ricordo il periodo di Conte a livello di infortuni muscolari decisamente meglio rispetto a questo periodo e in complessivo anche quando allenava l'Inter o adesso al Tottenham, non ci sono questi livelli, ma questo non dipende solo unicamente dall'allenatore, dipende anche tanto dallo staff dell'allenatore. Quindi per me il livello di infortuni non dipende da Allegri, dipende dallo staff di Allegri, poiché magari i giocatori possano essere sollecitati in modo particolare dal tipo di gioco proposto dall'allenatore, questo indubbiamente. Però lì ricade nello staff. L'altro giorno Nedved è stato abbastanza disonesto, secondo me, diciamo proprio la parola giusta, secondo me l'altro giorno è stato disonesto ai microfoni di Dazon, quando nel pre-partita di Lecce-Juve diceva Allegri ha la nostra totale fiducia, anche perché a un certo punto Nedved dice una cosa particolare, col Pogobbo è stato bravo a sollevarla, questa vena. Dice, sono usciti tanti nomi, tra cui quello di Conte, abbiamo totale fiducia in Allegri, ma ne usciranno altri. Cioè, se abbiamo totale fiducia in Allegri, perché dovrebbero uscire altri nomi? Non riesco a capire, cioè non riesco a seguirlo questo filo logico. Quindi, secondo me, Nedved ha detto una cosa, ma ne ha fatto intendere un'altra, il che apre una miriade di possibilità. vi dico subito, non sarei stupito dal ritorno di Conte. Non sarei stupito dal ritorno di Conte. Mi sembra, anzi, forse, un modus operandi abbastanza da Juventus. Io in questo momento vorrei l'apertura di un ciclo completamente inedito, con un allenatore scelto sulla base di un progetto che ti porta a risultati concreti magari nel giro di due o tre anni, senza scorciatoie. Secondo me oggi è giusto rimangiarsi un po' di merda, ma non come stiamo facendo in questo momento, cercando di tenere soltanto le labbra alte e cercando di boccheggiare per non annegarci in quel mare di merda, perché così non stiamo andando a nessuna parte. Così non stiamo letteralmente andando a nessuna parte. A meno che non ci sia un'inversione di tendenza adesso, dato al fatto che siamo praticamente tutti fuori ed è ora magari di iniziare a valorizzare seriamente i giovani rimasti vivi, e cioè Miretti, Fagioli e Sule, che sono tre che hanno giocato anche a Lecce, quindi non andiamo veramente in quella direzione, o se no stiamo probabilmente buttando via un anno. Conte, dicevo, la trovo una scelta molto da Juve, il ragionamento Juve di questo momento qui. E vi dico la verità, non sarei nemmeno sorpreso di vedere Allegri scilurato tra un paio di settimane in occasione della pausa mondiale di un traghettatore al suo posto, magari lo stesso Montero, perché è già all'interno del mondo Juventus, e gli si dice proprio tranquillamente guarda, ci serve un uomo che in questo momento ci metta la faccia, vada a invertire la tendenza da qui a termine della stagione, un vero e proprio traghettatore per poi riportarti eventualmente o ancora in primavera o promuoverti in under. Penso che questo possa essere il discorso fatto a Montero, perché poi si torna su Antonio Conte. Antonio Conte secondo me tornerebbe alla Juventus di corsa, di corsa, perché lui è specializzato in questo tipo di situazioni, prendere una squadra morta, clinicamente morta, e riportarla ad alti livelli. Con degli investimenti, certo, perché Antonio Conte oggi pretende gli investimenti, a differenza di quando è arrivato la Juventus la prima volta, ma era uno status differente Conte ed era uno status differente alla Juventus, e quindi è logico che pretendano gli investimenti, andrebbe a pretendere uno stipendio molto importante che secondo me andrebbe ridiscusso, tradotto, non si va sull'ordine dei 10-12 milioni di euro. Non credo che la Juventus possa permettersi questa cosa in primis, perché c'è anche Allegri ancora eventualmente a libro pago, a meno che non ci sia questa storia del secondo anno, poi valutiamo se andare avanti terzo o quarto anno, cosa che in questo momento non risulta, era venuta fuori una voce, vedremo, però non credo che Conte possa pretendere quello stipendio dalla Juventus di oggi, anche perché la Juventus oggi attraversa comunque un momento finanziario non eccezionale, assolutamente no, quindi questa è una cosa a tenere in seria considerazione, ma Conte, chi ha iniziato il ciclo della Juve, ha interrotto il ciclo della Juve di vittorie, secondo voi si lascia perdere l'occasione di ricominciarlo ancora, col ciclo della Juventus, lui vive per queste sfide, lui gli è fatto per queste sfide e lui possiamo dire quello che vogliamo, è andato all'Inter, certo, bla bla bla, ma lui è ovvio che rimane legatissimo alla Juventus, quindi per me tornerebbe di corsa, per quanto mi riguarda è difficile vedere Conte alla Juventus insieme ad Andrea Agnelli, è molto difficile e non sarai nemmeno stupito eventualmente a fine anno di un cambio di presidenza, non di proprietà, la proprietà rimarrà Bexor, ma un cambio di presidenza potrebbe pure avvenire. L'anno scorso vi parlavo di un Agnelli che a un certo punto potrebbe dimettersi e di questa puzza che ho sotto il naso in questo momento nel vedere Del Piero sempre più presente all'interno del mondo Juve, non sto dicendo che Del Piero potrebbe diventare presidente perché secondo me non avrebbe nemmeno le competenze, dal niente diventa un presidente, lo sarebbe soltanto rifacciata, però anche questa è una mossa da Juve esattamente come il ritorno di Conte perché noi stiamo continuando a girare all'interno di questo orticello composto da questi 3-4 allenatori da 10 anni, 12 anni ormai, quindi non mi sorprenderebbe affatto il ritorno di Conte. Ribadisco, io inizierei un ciclo differente perché secondo me a un certo punto è anche giusto staccarsi dal passato completamente e ricominciare da zero e da zero seriamente con il culto del lavoro e non più del mi è dovuto perché sono la Juventus, mi è dovuto perché ho vinto per 9 anni di fila, 10 anni di fila, mi è dovuto perché ho i soldi, non è più dovuto niente e lo stiamo vedendo in Serie A in questo momento sta dominando il campionato un Napoli che è stato completamente ribaltato e che si basa proprio sul culto del lavoro, poi magari non vincerà lo scudetto ma in questo momento c'è soltanto da alzare le mani e fare i complimenti a tutti quelli che hanno permesso la creazione di questo Napoli poi io sarò il primo a sperare di poter vincere lo scudetto anche quest'anno ma il conto è sperare è un conto è la realtà c'è poco da fare e ad oggi il Napoli è forse una delle squadre più in giocabile d'Europa in assoluto fra tutte che non significa che vincerà la Champions significa che ad oggi è una squadra che ha dei numeri strepitosi è una squadra che ha impressionato tantissimo ed è una squadra che è stata in grado anche di raccogliere giocatori semi sconosciuti come Angissao o come Kvara che oggi sono dei veri e propri trascinatori e non c'è niente da dire Conte sarebbe l'uomo giusto per far ripartire questa Juve? assolutamente sì assolutamente sì al 101% sì perché quello che vi dicevo prima è bravissimo a fare queste cose nel corto nel breve periodo per due o tre anni lui ti prende e ti ribalta come un calzino quelli che ha e ovviamente pretende altri ma ti ribalta completamente l'identità di squadra te la ribalta completamente nel breve medio periodo sul lungo fa un po' più fatica quindi Conte non sarebbe un progetto da quattro anni come stato Allegri Conte potrebbe essere un progetto da un paio di stagioni per ripristinare quello status e poi eventualmente fare uno step successivo con un altro tipo allenatore perché lui in primis poi si stanca di un certo tipo di progetto perché a lui piace prendere e costruire poi ci sono allenatori invece che sono bravi a dare continuità e a fare quel magari step passettino in più che allenatori come Conte fino adesso storicamente non sono mai stati in grado di dare ad esempio in Champions League ma noi oggi non abbiamo il problema di voler vincere la Champions League è proprio l'ultimo dei nostri problemi è il primo dei nostri sogni ma l'ultimo dei nostri problemi quindi Conte sarebbe assolutamente decisamente l'uomo giusto per questa Juve ma ribadisco quello che dicevo prima ragazzi penso anche che sia doveroso e necessario fare un passo in avanti oltre certi limiti mentali che ormai ci stiamo portando dietro da tempo serve fare un passo in avanti oltre i soliti nomi oltre il solito passato che torna ciclico come non mai come Bonucci come Buffon come Morata come Pogba come Allegri come tanti troppi forse negli ultimi anni ci sono stati tre arrivi di Martin Caceres due ritorni di Martin Caceres probabilmente serve fare quel passo più lungo quel passo più difficile quel passo più complicato quel passo più pauroso perché ti stacca dall'abitudine quel proprio uscire dalla comfort zone che non siamo mai stati in grado effettivamente di fare negli anni perché quando ci abbiamo provato è stato con Andrea Pirlo e non è andata come volevamo ma non è andata come volevamo non è che è andata male perché era sbagliata quella strada la strada era giusta è stato sbagliato probabilmente buttare nella mischia nella fossa dei leoni uno come Andrea Pirlo che in quel momento non aveva mai allenato niente e forse ci siamo illusi troppo io in primis perché ricordo quanto ero gasato dall'idea di Pirlo in panchina quanto ero gasato dall'idea di una nuova Juve che si staccava completamente dal passato e che ricominciava da zero e siamo andati in netta contrapposizione poi con il ritorno di Allegri e l'esonero di Pirlo cioè abbiamo fatto dieci passi indietro non dal punto di vista sportivo ma in realtà purtroppo anche da quello ma proprio dal punto di vista di mentalità di programmazione e non perché era sbagliata la strada che si era scelta ma perché probabilmente è stato sbagliato dare tante responsabilità a un novellino che in questo momento rischia anche di essersi bruciato completamente la carriera è per quello che vi dico che Montero potrebbe accettare soltanto anche in caso di poi a fine anno stop la prendo per l'emergenza del momento ma non facciamoci strane idee voglio farvi il mio percorso e magari arrivarci per merito alla Juventus di allenatori bravi in Italia dico in Italia perché la storia della Juve è piena di allenatori italiani ma a me piacerebbe anche un allenatore estero e che ha allenato in Premier League mi piacerebbe veramente un allenatore che vada a ricalcare queste cose qui però in Italia ce ne sono stati tanti di allenatori negli ultimi anni che hanno dimostrato e hanno fatto vedere che in tanti mi dicono Gasperini ma io non sono convinto che Gasperini possa essere un profilo giusto per questa Juventus perché non voglio che poi si ripeta l'errore fatto con Sarri che era il profilo giusto dal punto di vista del tipo di allenatore ma sbagliato dal punto di vista umano perché alla Juve si cerca sempre un certo standard da quel punto di vista e ci sono degli allenatori che escono molto dagli schemi e che non possono far parte di una società come la Juve non perché non sono bravi ma perché non sono come la Juve li vorrebbe sono due discorsi diversi e secondo me Gasperini va molto in quella direzione lì e da quanto ho capito anche Luis Enrique che va molto in quella direzione lì che è uno dei nomi che era venuto fuori è un allenatore che a me piace piace tantissimo Luis Enrique ma ho paura che possa andare in quella direzione ho paura che anche Tuchel possa andare in quella direzione per quanto sia forse il primo sostenitore di Tuchel non faccio il nome di Zidane perché intanto non ho garanzie su quello che potrebbe essere Zidane e sono abbastanza convinto che andrà a allenare la Francia al termine del mondiale e non siamo nemmeno forse la squadra da status di Zidane in questo momento parlavo di allenatori che hanno dimostrato qualcosa negli anni e Dionisi del Sassuolo sicuramente è uno di quelli non è il nome che mi scalda di più infatti Gazetta parla anche di Dionisi l'altro giorno ma non sarei pienamente contento di Dionisi anche se va proprio in quella direzione lì di staccarsi un po' dal passato e di fare quel passo oltre difficile a me piace molto Vincenzo Italiano qualcuno oggi potrà storcere il naso perché la Fiorentina non va così bene ma io sono veramente convinto che Vincenzo Italiano avrà un nome nell'Olimpo dei grandi allenatori italiani nei prossimi anni e secondo me una Big se lo porterà a casa nell'immediato futuro non so quando non so chi non so perché a me piacerebbe tanto è un allenatore che piace tanto perché è veramente in grado di far crescere e di valorizzare dei calciatori ad oggi probabilmente non è in grado di vincere non ha mai avuto l'opportunità di farlo però negli anni è riuscito a fare delle promozioni nelle categorie inferiori delle salvezze in Serie A con lo Spezia e delle qualificazioni europee con la Fiorentina che non avvenivano da anni anzi raddoppiando la media punti dell'anno precedente dove la Fiorentina rischiava di andare in Serie B e noi oggi serve un allenatore in grado veramente di valorizzare il talento perché abbiamo veramente tantissimi talenti ieri Romeo Agresti diceva non ricordo così tanti ragazzi che talentano la Juventus come in questo momento significa che il settore giovanile sta andando nella direzione giusta che la Next Gen è la direzione giusta che la Juventus sta lavorando in lungimiranza ma significa anche che in questo momento serve allora un allenatore in grado di basare le fondamenta della Juventus su questi ragazzi qui avere il coraggio di mettere in gioco questi ragazzi qui e non più andare a prendere il Paredes in prestito dal PSG ma c'è Rovella in rosa e tengo in Rovella che era quello che ho detto tutta estate e poi ho detto d'accordo io farei questo c'è Allegri in panchina probabilmente accadrà il contrario e infatti è accaduto il contrario ma io tuttora sono qui a dire che mai avrei preso Paredes perché avevamo Rovella che in quei pochi minuti giocati aveva dimostrato tanto e dovevamo cercare di basarci su Rovella e Tanti mi ha detto ma poi cosa fai ti presenti in Champions con Rovella non è andata meglio con Paredes l'hai pagato di più e in questo momento mi girano anche terribilmente i coglioni perché noto tanti troppi giocatori che in questo momento stanno pensando solo al Mondiale che è tra due settimane invece che pensare veramente al bene della Juventus e quindi guarda caso tanti infortunati proprio in questo momento e guarda caso delle prognosi di almeno 15-20 giorni quando tra 13 giorni si gioca l'ultima partita di campionato chissà come mai chissà perché pensare male a volte ci si prende pensare male a volte ci si prende è il terzo allenatore che non allena in Serie A ma che è allenato in Serie A e che è già stato alla Juventus sia come giocatore che come vice allenatore è Igor Tudor è un altro di quei nomi secondo me molto interessanti nel panorama degli allenatori emergenti non sono qui a dirvi che prendendo italiano Dionisi o Tudor si vincerà il campionato si vincerà la Champions si si qualificherà in Champions si passeranno i gironi si passeranno gli ottavi non vi sto dicendo questo vi sto dicendo che in una situazione di disastro come quella che stiamo vivendo è in una situazione di declino ma non di quest'anno è un declino che parte dall'acquisto di Cristiano Ronaldo e vi rimando ai video che si chiamano tutti gli errori della dirigenza negli ultimi 4 anni se negli ultimi 4 quasi 5 anni siamo passati da quasi tetto d'Europa all'acquisto del miglior calciatore al mondo di quel momento a questo con una discesa sempre più netta significa che va invertita la tendenza se negli ultimi anni esci con Ajax Lione Porto Villareal Benfica barra Maccabi Aifa dalla Champions League e sempre prima e sempre ogni anno peggio significa che va invertita la tendenza significa che non va più atteso il miracolo stagione per stagione significa che va messo mattoncino per mattoncino e cercare di migliorare anno dopo anno magari arrivi che ne so quinto però sai che ti sei formato una squadra che hai dato fiducia dei ragazzi che l'anno prossimo raddoppieranno il loro potenziale il loro valore e le loro prestazioni e quel quinto ti porterà a che ne so terzo o secondo o magari sarà già l'anno in cui vincerai qualcosa ma non tutto subito non possiamo più ragionare sul tutto subito non è più la strada da seguire e questo è l'errore più grande che ci stiamo portando dietro cercare le scorciatoie cercare il nome ricercare dove siamo stati contenti va via Allegri prendiamo Sarri ci spaventiamo andiamo su Pirlo perché Pirlo è stato un grande giocatore che ci ha dato ottimi ricordi è andato male Pirlo siamo andati su Allegri perché Allegri era la tana sicura che ci aveva fatto vincere adesso non stiamo vincendo l'anno scorso non abbiamo vinto abbiamo confermato Allegri per lo stesso motivo adesso è palesemente in difficoltà probabilmente anche la squadra non gli sta dando più il supporto ma lo stiamo tenendo lì perché sì perché poi perché vediamo non possiamo più ragionare in questa maniera non possiamo più aggrapparci a queste cose e ve lo dice uno che negli anni questo errore l'ha fatto tante volte però dopo tante volte anche che mi sono schiantato contro il muro ragazzi prima o poi la faccia fa male prima o poi te ne accorgi che così non si può più continuare e prima o poi devi anche guardare quelli che prima guardavano te e che sembravano lontanissimi sembrava impossibile che ti raggiungessero non solo ti hanno raggiunto ti hanno doppiato ti hanno superato e ti hanno doppiato e come l'hanno fatto mangiandosi della merda sì ma con la voglia e il gusto di fartela mangiare poi in futuro non ci sono soldi siamo in rosso c'è la crisi nel calcio scommetto scommetto quindi vi prego non venitemi a parlare di rinnovo di Rabiot non venitemi a parlare di rinnovo di Alessandro non venitemi a parlare di rinnovo di Di Maria non venitemi a parlare di rinnovo di Quadrado non venitemi a parlare di rinnovo di Bonucci venitemi a parlare di valorizzazione di Fagioli venitemi a parlare di valorizzazione di Miretti venitemi a parlare di valorizzazione di Gatti venitemi a parlare di valorizzazione di Sule che non significa che debbano giocare tutti e subito significa però che se quelli che in questo momento sono identificati come titolari non stanno facendo il loro che è esattamente questa situazione allora non vedo il motivo di non provare ad investire tempo e fiducia in questi profili che poi qualche soddisfazione te la possono dare vedi il via del mare di Lecce, Lecce 0, Juventus 1, gol di Nicolò Fagioli partita brutta, tremenda, terribile, terrificante da una parte e dall'altra ho già analizzata e ve la lascio qui sopra nelle schede però sempre colpo coppo diceva che dall'età me nascono i fiori ed è vero perché l'unica cosa da salvare oltre la vittoria e oltre il momento di crisi con tanti indisponibili che ti procura la vittoria è quel gol di Nicolò Fagioli è quella fiducia nel futuro che è la stessa fiducia nel futuro che mi ha permesso di non essere distrutto dopo Benfica e Juventus perché andatevi a vedere quel post partita andatevelo a vedere vi dico stasera potevamo prenderne 6, 7 potevamo essere distrutti, umiliati eppure non sono così triste, non sono così sconsolate sapete perché? perché ho visto qualcosa sul lungo ho visto Iling Junior entrare in Champions e spaccare la Champions e spaccare una partita completamente dominata da quegli altri e non mi faccio illudere dai tre gol segnati da Juventus e quindi dal 4-3 che è meno amaro rispetto al 7-1 mi faccio illudere dal fatto che entra un giocatore che in Champions non aveva mai avuto esperienza e spacca la partita e non vi parlo per questa stagione non dico che sarà la svolta del 2022-2023 ma cerco di guardare sul lungo periodo che è l'unico modo vero di uscire da questo momento di crisi sarà che sto invecchiando sarà che sto invecchiando e l'ho già detto più di una volta e quindi ragiono in maniera diversa magari da come ragionavo qualche anno fa ma sarà anche che la Juventus in questo momento mi ha dimostrato di sbagliare seguendo questa linea e gli altri mi stanno dimostrando che ne stanno venendo fuori Milan l'anno scorso ci ha vinto uno scudetto con questo procedimento mentale che non significa attenzione mandar via tutti i vecchi e fondare la squadra sui giovani perché vedevo un video di Davon dove giustamente sottolineava l'importanza di una figura come Ibrahimovic all'interno del Milan nel processo di crescita e di ritorno alla vittoria del Milan ed è fondamentale sottolineare la figura di Ibrahimovic ma Ibrahimovic non gioca no signore Ibrahimovic è un giocatore che non gioca ora è infortunato ma anche quando stava bene non giocava era un giocatore tenuto lì per spirito di gruppo per fare gruppo per mentalità Giroud è campione del mondo in carica titolare con la Francia ed è vecchio è più vecchio di Di Maria e gioca un paio di giocatori d'esperienza due, tre ci vanno un paio di leader che il leader non ha età ci vanno la figura di Danilo secondo me oggi è indispensabile nello spogliatoio della Juventus la figura di Bonucci ha altre due stagioni all'interno della Juventus non dico che devi mandarli via possa rimanere ma non devono essere titolari magari come Bonucci e non devi proporgli il rinnovo perché hai già due anni e sono sufficienti altre due stagioni sono sufficienti per formare altri giocatori che possano essere in grado poi di portare alto la bandiera della Juventus e il valore della Juventus e me ne vengono in mente due in questo momento che devono tirarsi su le maniche rimboccarsi le maniche in questo modo per diventare i simboli della Juventus del domani sono Chiesa e Locatelli che sono due giocatori che sono i Juventus da anni da anni ormai e sono due giocatori che non sono più giovani sono due giocatori uno del 97 e uno del 98 che iniziano ad avere una certa età perché oggi i giovani sono i 2003 vedi appunto i Sule i Miretti gli Ealing lo stesso Fagioli è un 2001 è già in ritardo nel processo di crescita degli altri in Europa e noi dobbiamo per forza di cose guardare quelle robe lì dobbiamo per forza di cose guardare quelle robe lì quindi non sono qui a dirvi dalla prossima partita 11-11 under 25 perché la trovo una follia totale però bisogna cambiare nel modo di ragionare perché poi ci ritroviamo a fare un'altra campagna acquisti da Pogba di Maria Paredes e poi e poi non ci sono e poi sono rotti e poi costan tanto e poi le partite te le risolve Nicolo Fagioli